Noi chiediamo trasparenza, chiediamo la verità. Chiediamo trasparenza e verità, lo annuncia Alessandra Moretti, targata Partito Democratico, ma come lei lo predicano tutti quanti. Chi però merita più attenzione sono i cittadini della zona stretta tra Vicenza, Verona e Padova, interessata dall'inquinamento da sostanze per fluoro alchiliche. E penso che ai cittadini debba essere riconosciuto questo diritto, di sapere che cosa hanno bevuto fino adesso. Cosa hanno bevuto fino ad adesso e soprattutto cosa hanno respirato? Sì perché l'inquinamento, come ipotizzato, potrebbe riguardare anche gli FAS portati dal vento, un'eventualità che bisogna assolutamente verificare perché avrebbe ricadute incalcolabili e imprevedibili sia sulla salute che sulle coltivazioni e quindi sull'economia. Intanto l'Ordine dei Medici si sta attrezzando e a Vicenza, per la prima volta in Italia, ha costituito un vero e proprio commando sanitario formato da specialisti che dovranno formulare indicazioni ai pazienti a cui vengono riscontrati livelli di FAS superiore alla norma. Finora sono stati individuati effetti sul sistema endocrino, sul sistema cardiovascolare, sulla tiroide e sul colesterolo. Per questo noi di Rete Veneta continuiamo ad insistere sull'urgenza. È necessario intervenire prima possibile. Una corsa contro il tempo, mentre nei palazzi della politica i partiti si scontrano a colpi di interrogazioni per individuare quali sono le responsabilità. Quali sono le responsabilità? Domanda legittima, ma ai cittadini interessa innanzitutto la loro salute. Questa è la priorità che noi di Rete Veneta rilanciamo perché ci sono tantissime mamme e tantissimi papà molto preoccupati, ovviamente per la salute innanzitutto dei loro figli.